ciao a tutti amici creativi sono qui oggi con voi per mostrarvi quelle che ormai abbiamo chiamato le tele di monica sono felice di presentarvele sia nella tecnica che nell'utilizzo di una nuova linea di prodotti qui abbiamo qualche esempio vedete le silhouette di donna con l'aggiunta di alcuni dettagli decorativi gli stencil elementi a rilievo nella scarpa oppure gli stencil anche in questo caso elementi tridimensionali una silhouette di donna in stile più romantico la borsa con la pasta crackle e addirittura dei nuovi visi e delle nuove composizioni eventualmente anche floreali ho disegnato per voi le carte per realizzare queste tele in modo da agevolarvi il più possibile le carte includono sia le silhouette che alcuni dettagli ed elementi moda inoltre abbiamo messo a punto una pasta tridimensionale molto voluminosa la heavy body con la quale realizzare i dettagli più tridimensionali ad esempio potete notarne uno per realizzare questo cappello ed infine dei colori gli star con questi colori potete mettere in evidenza dare un tocco di luce ai dettagli più scuri delle vostre composizioni grazie a tutti 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 grazie a tutti